Rivolgendosi verso i suoi disceppoli. Parla ai disceppoli. Le battitudini, infatti, definiscono l'identità del disceppolo di Gesù. Esse possono suonare strane, quasi incomprensibili, a chi non è disceppolo. Mentre se ci chiediamo com'è un disceppolo di Gesù, la risposta sono proprio le beatitudini. È così. Vediamo una prima, che è la bassa di tutte le altre. Beate voi, poveri, perché vostro è il regno del Dio. Beate voi, poveri. Due cose, dice Gesù dei suoi, che sono beati e che sono poveri. Anzi, che sono beati perché poveri. In che senso? Nel senso che il disceppolo di Gesù non trova la sua gioia nel denaro, nel potere. Sono doni che riceve ogni giorno da Dio. La vita, il creato, i fratelli e le sorelle e così via. Sono doni della vita. Anche i beni che possede è contento di condividerli, perché vive nella logica di Dio. E qual è la logica di Dio? La gratuità. Il disceppolo ha imparato a vivere nella gratuità. Questa povertà è anche un atteggiamento verso il senso della vita, perché il disceppolo di Gesù non pensa di possederlo, di possederlo di sempre, di sapere tutto già, ma sa di dover imparare ogni giorno. E questa è una povertà, eh? La coscienza che dovrà imparare ogni giorno. Il disceppolo di Gesù, perché ha questo atteggiamento, è una persona umile, una persona aperta, aliena dai pregiudici e delle rigidità. C'è un bel esempio nel Vangelo di domenica scorsa. Simon Pietro, sperso pescatore, accoglie l'invito di Gesù a gettare le reti in un'ora insolita. E poi, pieno di stupore per la pesca prodigiosa, lascia la barca e tutti i suoi beni per seguire il Signore. Pietro si dimostra docile, lasciando tutto, e così diventa disceppolo. Invece, chi è troppo attaccato alle proprie idee, alle proprie sicurezze, difficilmente segue davvero Gesù. Lo segue un po', soltanto nelle cose che io sono d'accordo e lui è d'accordo con me, ma poi ate non va. E questo non è un discepolo. E così cade nella tristezza. Diventa triste perché i conti non gli tornano, perché la realtà sfugge ai suoi schemi mentali e si trova insoddisfatto. Il discepolo, invece, sa mettersi in discussione, sa cercare Dio umilmente ogni giorno. E questo gli permette di addentrarsi nella realtà, cogliendosi la ricchezza e la complessità. Il discepolo, in altre parole, accetta il paradosso delle beatitudini. Essi dichiarano che è beato, ciò felice, chi è povero, chi manca di tante cose e lo riconosce. Umanamente siamo portati a pensare in un altro modo. È felice chi è ricco, chi è sazio di beni, chi riceve applausi ed è invidiato da molti, chi ha tutte le sicurezze. E questo è il pensiero mondano, non è il pensiero delle beatitudini. Gesù, al contrario, dichiara fallimentare il successo mondano, in quanto si regge su un egoismo che gonfia e poi lascia il vuoto nel cuore. Davanti al paradosso delle beatitudini, il discepolo si lascia mettere in crisi, consapevole che non è Dio a dover entrare nelle nostre logiche, ma noi nelle sue. E questo richiede un cammino a volte faticoso, ma sempre accompagnato dalla gioia, perché il discepolo di Gesù è gioioso con la gioia che le viene di Gesù. Perché ricordiamoci, la prima parola che Gesù dice è beati, di qui il nome delle beatitudini. E questo è il sinonimo di essere discepolo di Gesù. Il Signore, liberandoci dalla schiavitù dell'egocentrismo, scardina le nostre chiusure, scioglie la nostra durezza e ci si dischiude la felicità vera che spesso si trova dove noi non pensiamo. E' Lui a guidare la nostra vita, non noi con i nostri preconcetti o con le nostre esigenze. Il discepolo, infine, è quello che si lascia guidare da Gesù, che apre il cuore di Gesù, lo ascolta e segue la strada. Possiamo allora chiederci, io, ognuno di noi, io ho la disponibilità del discepolo o mi comporto con la rigidità di chi si sente a posto, chi si sente per bene, chi si sente già arrivato? Mi lascio scardinare dentro dal paradosso delle beatitudini o rimango nel perimetro delle mie idee? E poi, con la logica delle beatitudini, al di là delle fatiche e delle difficoltà, sento la gioia di seguire Gesù. Questo è il tratto saliente del discepolo, la gioia del cuore. Non dimentichiamoci, la gioia del cuore. E questa è la pietra del paragone, per sapere se qualcuna persona, qualche persona è discepolo, ha la gioia nel cuore. Io ho la gioia nel cuore. Questo è il punto. La Madonna, prima discepola del Signore, ci aiuti a vivere come discepoli aperte e gioiosi. E concepiti del Spirito Sancto. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fruttus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Vicentilla, Domini. Fiat mi secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fruttus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et abitabit nobis. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fruttus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. U tini e diciamo promissionibus Christi. Grazie an Tua, anque sumus Domine, mentibus nostri sin funde, ut chiance l'Annunziante, Christi, Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur. Per Christum, Domino nostrum. Amen. Gloria a patria et figlio et spiritu i santo. Sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Gloria a patria et figlio et spiritu i santo. Sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Gloria a patria et figlio et spiritu i santo. Sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Pro fideli voste fontis, recchiem etterna donnais Domine. e lus perpetua luce a Dei, richiescant in pace. Amen. Sì, nomen Domini benedictum, e chiuso in un petusque in secolum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Benedica a Vos, Omnipotes Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen. Cari fratelli e sorelle, le notizie che giungono dall'Ucraina sono molte preoccupanti. Affido all'intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio. Saluto di cuore tutti voi, romani e pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. In particolare saluto i fedeli di Funchal e Strait de Camara de Lobos, nell'isola di Madeira, nel Portogallo, come pure quelli di Perugia e Catanzaro. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Anche a te. Grazie. 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 Grazie.